Ciao a tutti, bentornati! Oggi voglio parlarvi di un prodotto che ho ricevuto, ma ancora di più di un sito molto molto interessante che secondo me vale la pena conoscere, soprattutto in tema skin care. Il prodotto in questione è questo prodotto qui, che ho ricevuto dal sito YesStyle. Per chi non lo conoscesse, YesStyle è un sito coreano, giapponese, non ho ben capito, che rivende un sacco di brand, soprattutto di skin care, in realtà ha anche abbigliamento. Ci sono proprio delle sezioni sul sito dove potete appunto divertirvi come volete, trovare tutti i brand, secondo me molto validi, soprattutto di skin care coreana. Potete trovare The Arclairs, Laneige, Purito, Corsix, ce ne sono davvero tanti, Natural Republic, ci sono davvero tanti brand che adesso magari neanche ricordo bene, ma veniamo a lui. Lui è della Unique, un brand che tra l'altro non conoscevo, è il primo prodotto che provo di questo brand, ed è il Noni Light Oil Serum. È un siero composto prevalentemente da oli vegetali e dal Noni. Oli vegetali come olio di macadamia, olio di jojoba e anche olio d'oliva. è appunto questo frutto che si chiama Noni, che io non conoscevo, è un frutto asiatico con forti poteri elasticizzanti e anche antiossidanti. In realtà, visto così, a me non dava l'impressione che all'interno avesse degli oli. Infatti, una volta applicato, ho notato subito un potere assorbente, quasi immediato. Mi piace molto la consistenza, sia perché io non sento, non avverto tutta questa emollienza data appunto dagli oli, ma in realtà la consistenza, io magari ve lo faccio anche vedere, la consistenza è sì corposa rispetto a un siero quasi acquoso, ma vi posso garantire che si assorbe in maniera molto molto veloce, anzi diventa quasi acqua e non avete proprio quella percezione di olio sul viso. Era quello che più mi spaventava perché avevo paura che magari avendo troppi oli all'interno, la mia parte un po' più grassa l'andasse ad evidenziare, invece no. Come vedete, la mia mano è quasi del tutto asciutta, cioè come se la pelle risucchiasse completamente il prodotto, ho avuto questa impressione. Quindi, quello che ho potuto notare è che è idrata, perché appunto all'interno ha emollienti e oli, rimpolpa perché mi sento anche la pelle un po' rassodata, e l'obiettivo di questo prodotto è andare a ridurre le linee d'espressione. Io, come vi ho detto, lo sto utilizzando da una decina di giorni, quindi non posso dirvi granché a riguardo, ma la funzione di questo siero è proprio quella di andare a ridurre le linee sottili, le rughette, le linee d'espressione. Non ha alcuna fragranza all'interno, quindi è privo di fragranza, e è consigliato anche utilizzarlo andando a tamponare delicatamente, chiaramente in modo che la pelle vada ad assorbire nel miglior modo possibile il prodotto. Cosa è importante da dirvi è che questo prodotto costa circa sui 20 euro, 18-20 euro, sul sito è scontato fino al 28 febbraio, in più con il mio codice sconto che vi metterò giù, vi metterò anche il link al sito, potete approfittare anche di uno sconto in più, quindi con il mio codice sconto ROSAC20 potete avere anche qualche piccolo sconto in più, se vi fa piacere. Io ci tenevo a mostrarvelo anche perché è un prodotto che io ritengo, come vedete la pelle, c'è completamente asciutto, anzi a differenza di questa che è quasi ruvida, lei è completamente liscia, e questa cosa per me è favolosa, è fantastica, e quindi ci tenevo a mostrarvelo anche per questo motivo, e anche per farvi conoscere questo sito, secondo me è molto molto valido. Andate a darci un'occhiata perché, secondo me, se amate la skin care, merita, merita tantissimo. Nulla, sono stata breve, come sempre io vi mando un bacio grande, se vi va di supportarmi mettetevi un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!